Stasera in maniera totalmente estemporanea, perché noi non dobbiamo essere su questo palco, dialogheremo con Wuming4 Federico Guglielmi sulla nuova fatica letteraria del collettivo bolognese, UFO 78. Allora, la prima questione che mi è venuta in mente in questo preciso istante da chiedere a Federico riguarda appunto la novità rispetto alla carriera letteraria di Wuming, il fatto quindi di fare un romanzo storico, stavolta ambientato in un tempo recente, un tempo che, come posso anche immaginare, ha avuto anche difficoltà a fare conti con la storia, abbiamo avuto prima Alessandro Bertante, che ci ha appunto presentato un fantastico romanzo sulle bricate rosse, adesso abbiamo anche un facetto 78, che ricalca un periodo controverso, un periodo pieno di nuance della nostra storia, della nostra repubblica, no? E quindi mi chiedo, come è stato appunto, non so, fare questo passaggio da parlare di Altai, Manituana, Ku, e comunque tutta questa storiografia lontana, su cui si può anche un po' giocare con i personaggi, a trattare invece di tematiche come ad esempio il sequestro moro, l'ufologia, Colosimo e tutto qualcosa di così recente, che ha anche un senso, che ha anche un effetto pratico che tocca a te anche nel presente. Salve a tutti, intanto scusate il ritardo, l'abbiamo detto che siamo in ritardo, si è colpa dietro in Italia, come sempre. Dunque, com'è stato passare, diciamo, dalla storia più remota a quella più prossima? Per certi versi più facile, per certi versi più difficile, in realtà per la stessa ragione, perché tanti che c'erano all'epoca sono ancora qui e quindi ti sono molto utili come fonti storiche, come fonti orali, li puoi incontrare, di direi raccontami un po' com'era il 78 e al tempo stesso però ti rompono i coglioni tantissimo, inevitabilmente. Non era così ovviamente nei romanzi classici di Wuming, nei romanzi diciamo propriamente storici, non avevamo questo tipo di problemi, al massimo ci poteva contestare qualche storico e lì era anche facile difendersi, è fiction, è narrativa. In questo caso è chiaro che fa i conti anche con delle memorie personali, però insomma ce la siamo anche, come dire, schivata, la rogna più grossa, trovando come al solito un punto di ingresso abbastanza anomalo, che appunto è l'ufologia, gli avvistamenti di UFO, una delle cose insomma che non vengono immediatamente associate agli anni 70. Beh, si è appunto molto interessante anche la commissione che avete fatto in UFO 78, no? Dalla cultura New Age alla musica, ci sono un sacco di questi riferimenti musicali, al cinema, ma si parla moltissimo appunto della febbre appunto degli extraterrestri, no? Quindi dall'importazione di questi film americani, tra cui appunto incontri avvicinati del quarto tipo, che fa un po' da, come dire, da sfondo alla trama. Sì. No, certo, poi un'altra differenza che appunto emerge rispetto ai romanzi precedenti è che, come già accennavi, non viene costruito su delle fonti storiografiche, i personaggi, le ambientazioni, comunque sono frutto in parte della vostra fantasia. E quindi in qualche modo come vi siete rapportati con questa novità e quali sono le differenze, ecco, su cui volevate porre l'accento con questo metodo? Beh, intanto l'abbiamo scritto in modo completamente diverso dai romanzi precedenti, perché UFO 78 simula un'inchiesta, un'inchiesta giornalistica fatta oggi, tra il 2019 e il 2022, da una non meglio determinata persona, una singolarità, che intervista i sopravvissuti di una stagione e in particolare, insomma, di un'indagine, chiamiamola così, fatta da più persone e in maniera anche molto casuale, appunto, nel 1978. Quindi abbiamo al tempo stesso vari piani temporali che ritornano e si passa da uno all'altro, insomma, c'è il romanzo, le parti romanzate, propriamente romanzate, con i personaggi che agiscono appunto nel 1978 e poi c'è il presente, chiamiamolo così, in cui vengono intervistati spesso gli stessi personaggi o comunque persone che li hanno conosciuti, ovviamente con un effetto di prospettiva diverso, di persone che hanno 60-70 anni che guardano indietro a se stessi o agli altri. E quindi c'è un salto continuo da un piano temporale all'altro. Questa tecnica, ecco, di simulare una docufiction non l'avevamo mai tentata, insomma, è stata necessaria dal nostro punto di vista per cambiare, per fare sperimentazione, ecco. Non ripeterci che è un po' la cosa che a un certo punto della nostra carriera ci siamo imposti, eravamo un po' stufi di scrivere romanzi storici in una certa maniera e quindi abbiamo deciso di provare strade diverse. Da certi punti di vista UFO 78 è un po' il punto d'arrivo, ecco, di questa, o un punto di maturazione, diciamo, di questa seconda fase, secondo percorso che abbiamo intrapreso. Bene, grazie Federico. Ecco, allora, in realtà volevo appunto raccontare brevissimamente una storia, la storia del mio gigantesco hype per questo romanzo. Sono appunto un grande appassionato di anni 70, di anni di piombo, e quando appunto si è piaciuto che i Wuming stavano lavorando a questo progetto, praticamente ero in una totale estesi, infatti Alberto può anche confermare le nostre altissime aspettative, no? Pensando appunto di avere davanti un romanzo molto molto politico, insomma, ovviamente l'associazione con Q è plateale, uno pensa siamo riusciti a far passare degli anabattisti come dei comunisti e allora riusciremo a, chissà cosa faremo con il 78, con UFO 78, no? La cosa che mi ha anche un pochino stupito è che in effetti tra tutti i romanzi di Wuming UFO 78 ha una componente politica molto molto forte ovviamente, ma che è quasi lasciata a fluire sullo sfondo come se fosse appunto, non lo so, una sorta di radiazione cosmica di fondo di tutto il libro, ecco. E quindi mi chiedevano, tornando sempre al discorso dei grandi, no? Di questa sorta di retaggio di Wuming, come si fa a scrivere un romanzo così politico però non andando mai, non, come dire, scendendo mai così tanto nell'ideologico, così tanto nella politica di per sé? Beh, fondamentalmente per evitare il romanzo a tesi, diciamo così, che tendenzialmente è una palla, appunto il modo che noi scegliamo è quello di trovare un punto di ingresso strano, inatteso. Tempo fa, quando decidemmo di raccontare la rivoluzione francese, ci imbattemmo nel mesmerismo e quello fu il nostro punto di ingresso, decidemmo che si passava da lì. A un certo punto tutti ci dicevano, vabbè, ma avete scritto romanzi su tutte le rivoluzioni e quella russa no? Decidemmo di scrivere Proletkult e molta gente ci rimase un po' perplessa, ecco, dalla scelta che avevamo fatto, cioè di fare protagonista del romanzo fondamentalmente un rivoluzionario che era anche un romanziere di fantascienza, ecco, fondatore praticamente della fantascienza russa. E anche in questo caso molta gente in effetti si aspettava il romanzo sugli anni settanta, quando scrivete il romanzo sugli anni settanta, va bene, scriviamo il romanzo sugli anni settanta, però a modo nostro, cioè le aspettative vanno sempre un po' tradite, se no il rischio è quello che dicevo prima, di ripetersi, appunto, di dare fondamentalmente ai lettori quello che già si aspettano, che può essere, come dire, anche un buon rilascio di endorfine nell'immediato, ma è meno interessante, ecco, che invece provare a creare qualche connessione, interconnessione originale. Quindi gli UFO. Gli UFO perché il 78 è stato l'anno degli UFO, tra le altre tante cose che è stato. Sicuramente un anno spartiacque per la storia di questo paese, e non solo, ma per questo paese in particolare, non solo per il sequestro Moro, ma perché è anche l'anno dei tre papi, non è che succede spesso nella storia che ci siano tre papi in un anno, è l'anno in cui il Presidente della Repubblica si dimette, travolto da uno scandalo, è l'anno in cui le grandi lotte del lungo 68, del lungo decennio, insomma, che caratterizza la storia politica e sociale italiana, arrivano a ottenere, insomma, delle riforme importantissime, la legge che chiude i manicomi, la cosiddetta legge Basaglia, che mette l'Italia all'avanguardia nel trattamento delle malattie mentali, abbiamo la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza, abbiamo la nascita del sistema sanitario nazionale, insomma, è un anno che porta, dicevo, a compimento quelle lotte e al tempo stesso sancisce anche l'inizio della fine, si scavalla un crinale e comincia una stagione nuova, una sorta di interzona tra anni 70 e anni 80 che durerà un quinquennio più o meno, tra i 4 o 5 anni, e che potrebbe terminare con la vittoria dell'Italia ai mondiali di Spagna nell'82 quando le piazze si riempiono di bandiere tricolori e appunto le piazze sono invase per motivi che non hanno più niente a che vedere con quelli degli anni 70, ecco, per cui venivano invase negli anni 70, cioè si volesse trovare delle date di comodo, però ecco, inizia lì un periodo di transizione piuttosto lungo che un giornalista dell'epoca, Carlo Rivolta, chiamò l'aspra stagione, appunto, e tutto si tiene, si tengono queste trasformazioni, queste grandi riforme, con molto altro, ad esempio col fatto che al cinema arrivi incontri avvicinati del terzo tipo, ma anche la febbre del sabato sera con John Travolta che impazza e quindi cominciano a cambiare i costumi, si tengono col fatto che le strade sono invase praticamente da un fiume di eroina, i morti per overdose raddoppiano tra il 77 e il 78, quindi c'è proprio un aumento esponenziale del consumo di questa sostanza, quindi davvero cambiano tante cose in quel momento e l'Italia è il paese che ancora detiene il record di avvistamenti di oggetti volanti non identificati nella storia, in un singolo paese, in un singolo anno, il 1978, tutti letteralmente vedevano gli UFO e gli UFO erano dovunque, nell'immaginario collettivo, non solo grazie al film di Spielberg, quello sì, forse fu un volano, ma in realtà erano davvero nella cultura pop, li vedevi in televisione, se uno va a vedersi nelle videoteche, audioteche RAI, si va a vedere le trasmissioni che andavano all'epoca, c'è sempre un qualche riferimento a degli extraterrestri, a degli UFO, allo zecchino d'oro, c'era Uffa gli UFO, la canzone del 78 dello zecchino d'oro, se ne parlava dovunque, Enzo Tortora a Portobello intervistava quello che era stato addirittura rapito dagli UFO, perché poi c'erano gli avvistamenti ma c'era anche chi andava oltre, ecco, chi aveva avuto appunto davvero l'incontro ravvicinato del terzo tipo e quindi era davvero una cosa che coesisteva questa con tutto il resto. In una delle prime presentazioni che ho fatto qualcuno è saltato su anche a contestarla questa cosa, ha detto ma come accostate il sequestro Moro e gli UFO, no? Non si possono accostare le cose serie e le cazzate e non si è potuto che rispondere, però è così, cioè in quel momento, in quell'anno, nello stesso spazio-tempo coesistevano tutte queste cose e quindi insomma se uno poi vuole raccontare la realtà la racconta nelle sue sfaccettature ovviamente, no? Però appunto questa cosa degli UFO è stata un pochino più rimossa rispetto a tutte le altre che ovviamente si trovano anche nei manuali di storia, come si suol dire. In particolare per la mia generazione, forse c'è qualcuno qui, quelli nati nella prima parte degli anni 70, prima metà degli anni 70, si ricorderanno insomma l'impatto enorme che hanno avuto i cartoni animati giapponesi che sono arrivati, quell'anno nel 1978 arriva il primo cartone animato giapponese di robot, si chiamava Atlas UFO Robot, però per quelli della mia generazione è sempre stato Goldrake, che ha avviato anche lì una grande trasformazione nell'immaginario infantile, ecco, e che storie raccontavano questi cartoni animati giapponesi? Invasioni aliene respinte da questi robottoni appunto che combattevano per la difesa della terra. La mia generazione è stata senz'altro segnata ecco da tutto questo, quindi se dovessi ragionare ecco soggettivamente nella mia testa di bambino, quello ad esempio ha impattato molto più che altre cose che non ero in grado di cogliere. Ecco, un'altra domanda, parlavi appunto delle varie lotte e uno dei protagonisti del libro fa la sua lotta personale contro la dipendenza, tu parlavi anche di Carlo Rivolta, giornalista che si occupava anche di indagare come il traffico d'eroina di quegli anni venisse anche immesso nelle strade, tra la gente e appunto il personaggio lo fa anche, combatte la sua lotta passando anche per una comune e quindi ecco all'interno del libro poi si parla anche della filosofia, delle comuni, dell'esperienza di questa società parallele che si andavano sviluppando e quindi insomma qual è l'eredità che raccogliamo da queste esperienze. Te posso fare delle domande, non ti offro, non ti do risposte perché se no appunto sarei un romanziere noioso, sarei un romanziere a tesi. Posso dirti che abbiamo deciso di raccontare tra le varie trame che compongono questo romanzo anche effettivamente la vicenda di una comune molto particolare, assolutamente inventata come quasi tutti i personaggi del romanzo, una comune che appunto si costituisce intorno a una figura carismatica femminile, Orsola Galbiati, una psicoterapeuta, una docente che ha tutte delle sue teorie in gran parte derivate dal femminismo ma non solo, in realtà è molto sincretica nella sua formulazione teorica e quindi tenta anche un esperimento pratico come all'epoca in effetti se ne tentarono, che però si trova davanti la questione, la questione che si trova davanti qualunque esperimento, qualunque situazione autogestita che tenti in qualche modo una sperimentazione alternativa al dato, una sperimentazione dell'esistenza delle relazioni alternative al dato e cioè apertura-chiusura. Il motto di questa comune che si chiama TANUR è TANUR accoglie, sta scritto proprio all'ingresso della comune. nelle dinamiche però della storia che raccontiamo a un certo punto di fronte ai cancelli di questa comune che sono sempre stati aperti, si viene ad ammassare una quantità di persone che sono in cerca di salvezza, sono in cerca di essere salvate redente dall'eroina appunto che viaggia a fiumi per le strade come dicevamo e quindi la questione, quella con la Q maiuscola è li lascio aperti con i cancelli o li chiudo? Ovviamente non te la do, la risposta non ce l'ho, non so cosa ci racconti questa storia, se non che è evidente, di questo i TANURiani discutono tanto, è chiaro che nel momento in cui lasci che il mondo esterno entri devi essere disposto a farti cambiare, qualcosa ovviamente succederà a te, no? Niente sarà più come prima dentro la comune e forse la comune stessa diventerà qualcos'altro, potrebbe anche arrivare a cambiare proprio la sua natura, la sua missione, diciamo così. Al tempo stesso anche una chiusura totale sarebbe in realtà una negazione dei principi della comune che è comunque quella di voler sperimentare una modalità nuova, un mondo diverso senza confrontarsi con quello che c'è fuori, è ben dura. Quindi come dire, non c'è appunto un punto d'equilibrio facile da trovare tra queste due cose, la sottotrama di TANUR racconta questo fondamentalmente. perfetto, grazie Federico. Ok, perfetto. Una delle cose che appunto mi ha anche interessato moltissimo nel libro, visto che appunto stavamo parlando dei personaggi, è il personaggio femminile di Milena Cravero. Milena è una giovane antropologa che fa etnografia, quindi va materialmente in questi posti, in questi gruppi ufologici, anche qui è un libro, viene narrato un insieme molto molto eterogeneo in realtà, non c'è un solo gruppo, ognuno ha un approccio differente, che è più razionalista, chi tende invece a credere un po' più a tutto. Ecco, una delle cose che più si nota dalla narrazione è la difficoltà anche di Milena a entrare in contatto con questo tipo di realtà, una realtà che ovviamente appunto non stiamo nemmeno a confermarlo, era molto molto maschile, no? Anzi, ci ho visto quasi un parallelismo con i nostri nerd di adesso, per usare una parola un po' brutta. Ecco, mi chiedo, è stata una solita politica quella di narrare un patriarcato più sofisticato? Non c'è come dire un patriarcato violento, forte, semplicemente una sorta di ostracismo sia verso Milena come accademica, che anche verso appunto il suo lavoro, ovvero quello di in questo caso raccogliere i dati etnografici sui gruppi di ufologi? È una solita politica oppure è stata più come dire un'esigenza narrativa? Ecco. Ma in realtà volevamo che la protagonista di questa sottotrama si sentisse molto estranea all'ambiente. La sua è una tesi sperimentale, lei fa una tesi di ricerca appunto in antropologia, in cui invece di andare a studiare qualche tribù diciamo nativa di qualche luogo esotico, studia la tribù degli ufologi. In quel momento in Italia nascevano gruppi ufologici come i funghi, dovunque, alcuni composti anche da una sola persona, altri composti invece da decine e quelli che abbiamo scelto noi sono torinesi, lei è di Torino e fa l'osservazione partecipante, praticamente sta in mezzo a loro ecco. Però appunto è unica donna effettivamente, questa è una sottocultura molto molto maschile, nerd antelitteram forse, si potrebbe definirla così. E' chiaro che lei parte, una ragazza che viene dal movimento femminista eccetera, parte con una serie di idee in testa. In buona sostanza dal suo punto di vista l'ufologia è uno dei sintomi della crisi del maschio occidentale, è un'ansia di catalogazione, un'ansia di identificazione, un tentativo di esorcizzare ciò che non è identificabile, identificato. Parte da questa tesi, poi in realtà, anzi dovrei dire parte da questa ipotesi, perché poi in realtà nel corso della ricerca le sue idee cambieranno, come sempre accade, cambieranno perché proprio empiricamente entrerà anche in contatto con altre realtà. Ci sono gli ufologi, ci sono gli ufofili, che ad esempio quest'ansia di catalogazione e di conoscenza non ce l'hanno, amano gli ufo in quanto non identificati. E questo la porterà appunto poi a un finale, una ricerca molto diversa ecco da quella che aveva ipotizzato all'inizio. Tra le altre cose, senza fare diciamo troppo spoiler, la porterà anche a risolvere un caso, un cold case, come direbbero gli americani, che è quello intorno al quale ruota un po' tutta la storia. Qualcuno l'ha anche definito una detective story, in realtà se uno dice detective story pensa subito a un qualche sbirro pubblico privato che indaga, in questo caso ce ne sono diversi, una è Milena, sono tutti sbirri per caso, detective per caso scusate, forse quello che ci si avvicina di più è una guardia forestale. E il cold case è quello di due ragazzini, due boy scout scomparsi su una montagna durante un campo scout appunto, di cui si sono completamente perse le tracce da due anni. Questo è il volano iniziale della storia, è appunto un caso che troverà una parziale soluzione alla fine, anche grazie alle ricerche di Milena, nonostante lei ricerchi su tutt'altro. Perfetto, grazie ancora Federico. Prima hai citato gli ufofili, questo gruppo che faccio anche fatica a definire, in realtà penso che la cosa più vicina che si possa immaginare, detto per usare parole molto molto facili, molto molto, come dire, immediate, è una sorta di gruppo di fricchettoni, campeggiatori che ama andare in mezzo alla natura, che ama osservare il cielo, che ama anche ascoltare musica disergica, farsi di acidi e fare queste cose che tanto andavano di moda in quegli anni lì. Il vostro libro, la vostra prima di copertina, si apre con una recensione, che è quella di New York Times, che definì il collettivo Rooming dicendo scrivono come scriverebbe Dan Brown sotto acido. E che si guarda moltissimo anche la trama del libro, ovvero il fatto che comunque la parte musicale, la parte culturale, c'è questo allogallo, questo negozio di dischi in cui si svolge anche una parte della narrazione che riguarda anche appunto la protagonista femminile, in cui effettivamente, come definisce anche la quarta di copertina, è una sorta di ashram di correre cosmici, no? E quindi mi chiedo, cos'è stato per voi appunto prendere, estrapolare agli anni 70, non solo la parte più, come dire, più politica, la parte più romanzata, ma anche la parte più culturale, che va dalla cultura pop alla musica, al cinema, a qualsiasi altra cosa che può comunque definire quegli anni, anche di là di, come si diceva anche prima con Bertante, la parte più politica, nel movimento, ecco, unire queste due cose è stata un'operazione editoriale secondo me abbastanza riuscita e quindi volevo anche chiedervi cosa è il significato per voi, ecco. Allora, alcune precisazioni. Gli ufofili non si fanno gli acidi, prendono dei funghi. a chilometro zero, ricetta della nonna, letteralmente della nonna, nonna Iole, che è una strega di paese, insomma, che ha un sapere tradizionale, eccetera, eccetera. Ecco, in qualche modo si contrappongono a quel fiume d'eroina che dicevamo, no? Cioè loro stanno su un altro versante, su un uso completamente diverso, ecco, delle sostanze psicotrope e altre sostanze. Poi la fascetta, la frase nella fascetta non è del New York Times, è del New Yorker. C'è una, diciamo, una lunga, ci sarebbe una lunga aneddotica sulle fascette. molti, molti anni fa, quando uscì, diciamo così, un romanzo che era in parte il seguito di Q, si intitolava Altai, noi chiedemmo all'editore una fascetta molto particolare. era un stralcio di un articolo di Libero, una boiata proprio come Q, Libero. Sulle prime l'editore ebbe un momento di perplessità, ma poi lo convincemmo a fare questa fascetta. perché, insomma, certe stroncature te le devi anche affiggere al petto. E poi se è una boiata proprio come Q, ok, va bene. In questo caso, quella frase, l'abbiamo espunta da un articolo di New Yorker, ci sembrava, come dire, cogliere un aspetto del romanzo, non tanto esso non solo per il riferimento alle sostanze lisergiche, appunto, ma anche perché effettivamente è un romanzo strano, è un romanzo ufo, no? E al tempo stesso, dicevo, è anche una detective story, quindi c'è un qualche cosa, se vogliamo, di dembrowniano, no? Però l'importante è che sia in acido, cioè che sia un dembrown che non ti aspetti, ecco, completamente fatto e fuori di testa, in questo senso. Quindi ci sembrava cogliere un elemento importante. Sugli anni settanta, insomma, io sono cresciuto, ero bambino in quegli anni, quindi ho dei ricordi comunque molto vividi, non tanti, ma quelli che ho sono molto vividi. Non solo Goldrake, intendo dire, ecco, anche altre cose. E i miei anni settanta, la mia infanzia, hanno sempre fatto a cazzotti con una certa, diciamo, un certo discorso, una certa vulgata sugli anni settanta, come appunto gli anni di piombo, gli anni in cui si sparava per strada, gli anni in cui c'erano i sequestri, eccetera, eccetera, scontri sociali altissimi. Nei miei ricordi c'era questo, sì, ma anche molto altro. Già anni fa, una ventina d'anni fa, collaborando alla sceneggiatura di un film che si intitolava Lavorare con lentezza, e raccontava più o meno la storia di Radio Alice, del movimento bolognese del settantasette, avevamo cercato di, come dire, far emergere anche quegli altri anni settanta, non soltanto, diciamo, gli aspetti dello scontro, tra virgolette, militare, ma anche tutto l'aspetto creativo, tutto l'aspetto musicale, di trasformazione degli usi dei costumi, di rivoluzione culturale, eccetera, eccetera. Senza il quale è quasi inutile parlare di anni settanta, ecco. Ma il fatto stesso che quando abbiamo cominciato qui stasera, io ho ricordato alcune riforme sociali, alcune leggi molto importanti, ottenute in quegli anni, dovrebbe mettere in discussione quella vulgata, cioè il fatto che in fondo gli anni settanta sono soltanto anni di piombo, appunto. Quindi in questo caso noi abbiamo usato un personaggio vero, specifico, un personaggio di Jimmy Fruzzetti che sta, insomma, gestisce un negozio di dischi e anche di letteratura di fantascienza, perché appunto è un ufofilo, è un appassionato di fantascienza e di ufo, eccetera. Lo abbiamo usato proprio come volano per raccontare tutti questi altri anni settanta, ecco. Poi dandogli anche una connotazione particolare, perché invece che guardare verso il mondo, diciamo così, anglosassone, d'oltre maniche, d'oltre oceano, lui è stato in Germania, quindi è un appassionato del cosiddetto crowd rock, ecco, ha tutti dei percorsi mitteleuropei, diciamo così, musicali mitteleuropei. Però questo pertiene, ecco, alla caratterizzazione specifica del personaggio. Ma senza dubbio lui racconta tutto questo, ecco. Per noi era fondamentale davvero che ci fosse questa componente, proprio per mettere in discussione un certo tipo di discorso. Ok, parlare di avvestamenti, di ufo, di ufologia, significa in qualche modo avvicinarsi anche al tema del complotto. E quindi, insomma, mi veniva da chiedere se, essendo un tema estremamente attuale, ne avete voluto anche parlare per provare a uscire anche in qualche modo dalla narrazione che crea divisioni nette, fazioni e polarismo. Beh, c'è una frangia degli ufologi che raccontiamo, che sono gli ufologi paranoici, che effettivamente sono un po' gli antessegnani dei complottisti. Diciamo, abbiamo difeso gli ufologi in razionalisti e paranoici, quelli più razionalisti sono quelli che appunto dicono, no, ma insomma, basta che indaghiamo, no, scopriamo con i nostri parametri razionali che cosa sono questi fenomeni, quindi una volta che abbiamo escluso che non è un pallone sonda, che non è venere, che non è un satellite, che non è un bicchiere di vino di troppo, eccetera, i casi che rimangono sono quelli effettivamente strani, effettivamente inspiegabili, effettivamente ufo, ok? E quindi poi ci concentriamo su quelli, su questo resto in qualche modo. I paranoici invece, l'altra parte, sono quelli che sono tra noi, sono già tra noi, i militari lo sanno, ma non ce lo dicono. E questi qui, diciamo, sono l'altra faccia dei razionalisti, tutto sommato, ma negli uni, negli altri, riescono, come dire, ad accettare la realtà degli ufo, per dirla con un famoso libro dell'epoca, che abbiamo, come dire, parafrasato, non riescono ad accettare il discorso invece degli ufofili, che invece appunto non si pongono il problema dell'identificazione, ma dicono l'umanità guarda il cielo da sempre, più o meno, vedendoci delle cose, cioè vedendoci in realtà uno specchio di se stessa, e quindi quello che mi devo chiedere non è tanto cosa sono quelle luci, ma cosa sono per me, ecco. Poi è vero che lo fanno prendendo i funghi, eccetera, quindi vedono anche tante tante cose, in più, però questo fa parte, ecco, della loro, della loro esperienza, letteralmente, come si diceva allora. Però sì, senza dubbio c'è anche un tentativo, in qualche modo, anche se blando, di stigmatizzare un certo tipo di tendenza che vediamo in atto anche oggi, ecco. Per effetto Federico, grazie ancora per la tua esostiva risposta. Quando Bless U for me nell'ottobre scorso, una cosa che mi colpia abbastanza, senza ovviamente fare alcun tipo di spoiler, è il finale, questo finale che arriva un po' all'improvviso, quasi come se la narrazione fosse rimasta veramente appesa, e poi si scopre che è così, ci cade addosso questa conclusione che alla fine appunto segna uno spartiacco tra tutte le micro-storie, tra tutte le sottotrame, che termina in un modo, come dire, molto molto perentore in realtà. Un esperiente narrativo che non ho notato in altri vostri lavori, e quindi mi chiedeva appunto qual è stato il vostro rapporto con questo finale, come l'avete scritto anche magari perché è una cosa molto molto curiosa, ecco. Questo pertiene anche alla gestazione molto lunga di questo romanzo che, insomma, è stata difficile fare qualunque cosa per tutti visto che abbiamo preso in mezzo i due anni pandemici in cui tra l'altro siamo stati molto impegnati anche su altri versanti, soprattutto stare dietro al nostro blog, e ovviamente questo ci ha portato anche a sbandare nella stesura di questo romanzo, siamo arrivati in fondo e ci siamo accorti che c'era una linea narrativa di troppo, abbiamo deciso di toglierla, così, erano quasi duecento pagine e quindi abbiamo detto all'editore che l'avremmo consegnato un anno dopo però, insomma, è stata ovviamente la scelta giusta questa e una delle cose su cui ci interrogavamo era come deve finire proprio, cioè il finale e anche qui abbiamo cercato di operare in maniera spiazzante, il più possibile spiazzante per quanto è nelle nostre possibilità, cioè in qualche modo sospendere la storia che come dicevo è in qualche modo una simula, ecco, una docufiction, sospenderla in qualche modo sul più bello, ecco, quando il caso sembrerebbe in via di risoluzione ma puntini puntini e poi c'è un'ultima parte del romanzo che invece è quella in cui la voce narrante che ripeto non è mai identificata, non si sa neanche se è un uomo o una donna ok, lui semplicemente racconta tutto ciò che è successo dall'epoca, dal 78, ovviamente connesso alle vicende raccontate nel romanzo, ai giorni nostri. Quindi è una specie di lunghissima carrellata in cui tutti i personaggi vengono ripresi, tutte le vicende vengono riprese vengono inserite nel contesto storico che va appunto dal 78 al 2022 ovviamente una grande carrellata però appunto è il momento in cui la voce narrante diventa protagonista e ti racconta effettivamente cioè ti copre quello spazio che rimane appunto tra l'allora e oggi e ti spiega in qualche modo come può essere come può essergli venuto in mente ecco di raccontare questa storia ecco perché in realtà è una storia che tocca tanti nodi ecco tocca senza volerlo ovviamente ma casualmente tocca tanti nodi risolti della storia della storia italiana non solo del 1978 perfetto perfetto ecco un'altra delle mie curiosità che mi sono sorvenute leggendo il vostro libro ma anche seguendo i vostri spostamenti il vostro vlog è il tatto che avete avuto a parlare del tema dell'ufologia e per tatto ovviamente non interna il fatto che sia un tema sensibile con cui approcciarci con le pinze con i guanti bianchi semplicemente è sempre mancata anche nel descrivere il personaggio di Martin Zanca che è questo scrittore che campa appunto vendendo libri della dubbia qualità che trattano di temi anche come dire difficilmente verosimili tipo ad esempio civiltà estrane avvistamenti alieni che sono arrivati sulla terra archeologia aliena però non c'è mai stato una vera intenzione giudicante per come l'ho vista io da parte del narratore come dire quasi come avere una sorta di Alberto ha parlato prima di cospirazionismo quella spocchia tipicamente liberal di chi si approccia al problema del cospirazionismo in maniera altisonante e quindi mi chiedevo cosa ne pensano gli ufologi cosa ne pensano i come dire i group di oggi del vostro romanzo l'hanno letto l'hanno apprezzato allora all'inizio qualcuno si è un po' risentito perché ha pensato che li stessimo perculando ah ma ci hanno descritto appunto come dei super nerd eccetera in realtà noi con queste persone avevamo già avuto contatti durante la la ricerca delle fonti eccetera abbiamo perlustrato i loro archivi eccetera e c'è Fiorino che è un po' il loro guru diciamo il loro mentore che invece ha fatto uscire una recensione molto bella l'abbiamo ospitata anche su Giappa molto bella molto lunga del romanzo cogliendo in realtà l'omaggio ecco anche a questa sottocultura che non è dal nostro punto di vista una sottocultura del riflusso infatti il picco di avvistamenti c'è stato nel 78 già nel 79 nell'80 non c'è più stato mentre tutte le tendenze che solitamente associamo al riflusso sono proseguite anzi sono aumentate per tutto il corso degli anni 80 eroina inclusa disco music inclusa riflusso nel privato incluso eccetera non così per gli avvistamenti di UFO e l'ufologia quindi non è una cosa evidentemente non era una cosa evidentemente connessa all'evasione in quel senso ecco ma un altro tipo di evasione probabilmente l'evasione dalla ansia appunto di identificazione connessa proprio a quella stagione a quel momento che è il momento in cui esplode la prima grande emergenza nel senso di emergenza come governance ecco nella storia italiana che poi verrà replicata molte altre volte e quindi è un desiderio probabilmente inconscio senza dubbio appunto di scappare ma di scappare appunto da chi ti sta chiedendo i documenti da chi ti sta vessando con i posti di blocco con chi ti sta chiedendo di schierarti a tutti i costi o con lo Stato o con le BR eccetera c'è questo ecco questa almeno è l'interpretazione che noi ne diamo e quindi in realtà non c'è affatto un desiderio di sfottere questa sottocultura appunto perché uno poi reagisce come crede come può alle strette ecco della storia e non ce l'hanno i nostri personaggi è vero cioè in realtà c'è un c'è molto rispetto anche per tutto questo anche per chi sostiene di essere stato che so menato dagli UFO di averli visti di averli incontrati o essere stato rapito avrà i suoi motivi in qualche modo per pensare una cosa del genere che possono essere di più vario tipo di varia origine il cosiddetto debunking funziona fino a un certo punto funziona fino a un certo punto perché in realtà se uno vuol credere una cosa è ben difficile ecco che anche mettendogli davanti un'evidenza razionale o scientifica riesci a fargli cambiare idea ecco appunto come dicevo gli ufofili si fanno il loro viaggio parallelo diverso dagli ufologi razionalisti o paranoici appunto percorrono una strada diversa e forse è questa la cosa interessante no cioè raccontare sugli UFO una storia diversa una storia che appunto nel loro caso ha a che fare con uno stare insieme diversamente con un furire un certo tipo di letteratura un certo tipo di musica eccetera eccetera ecco far parte di un certo tipo di esperienze a tutto tondo un altro tema importante è quello della natura molte scene vengono sono girate insomma ambientate in paesaggi in boschi comunque in zone naturali e come avete ricostruito questi paesaggi non essendo reali sì ci siamo abbiamo usato come epicentro della storia la lunigiana che è già una terra strana insomma un incrocio tra Toscana Liguria ed Emilia e in più ce ne siamo inventato una porzione la montagna sulla quale scompaiono i due boy scout è inventata il monte quarzerone non esiste non esiste il paese di forravalle eccetera però tutto ciò che c'è intorno invece sì abbiamo come dire collocato arbitrariamente in un punto specifico tra gli appennini e le apuane però i lunigianesi che hanno letto il romanzo hanno approvato hanno detto che filologicamente tiene questo motivo d'orgoglio cioè per carità abbiamo avuto i nostri consulenti lunigianesi ovviamente nel romanzo abbiamo inserito una dialettica tra la città e la natura tra il paesaggio urbano e la natura ci sono due luoghi urbani prevalenti sono Roma nei giorni del sequestro Moro e immediatamente successivi e Torino nei giorni del processo al nucleo storico delle BR quindi praticamente Belfast e London Derry ecco e poi ci sono i personaggi che escono da queste città che sono appunto oppressive in cui c'è questa cappa fortissima di controllo e vanno appunto verso questa provincia profonda profondissima in cui incroceranno in qualche modo i loro destini e addirittura si troveranno a risolvere un cold case appunto senza nemmeno volerlo questa è la loro parabola ecco non so se come dire vuole essere una metafora del ritorno alla natura o un'esaltazione della provincia o che ci siamo rotti le palle di stare in città non ne ho idea sinceramente lo lascio francamente insomma a chi vuole tentare un esegesi ecco di tutto questo però sicuramente questa dialettica c'è è parecchio forte non sei il primo che la riscontra ed è vero che c'è stata anche una ricerca effettivamente sul paesaggio in questo senso appunto con l'aiuto di lunigianesi che ci hanno spiegato un po' che tipo di alberi ci sono da quelle parti come sono le montagne eccetera eccetera sì questo ha fatto parte effettivamente del lavoro sulle fonti perfetto oggi non ho una grandissima voce allora l'altra questione a questo punto è quella di uno degli altri protagonisti del romanzo che è Martin Zanka Martin Zanka è un personaggio che per quanto personalmente possa essere molto simpatico mi rende conto che non sia esattamente lo stereotipo dell'eroe da romanzo ma di sicuro appunto non ci aspettavamo questo da Devo Ming più che altro rappresenta un po' la vecchia guardia del pc un sss serato al pc una persona comunque di credenza fortemente di sinistra che ha anche difficoltà di interfacciarsi con la novità che in questo caso è costituita dall'antropologa Milena Cravero e dalle sue idee femministe Martin Zanka è anche un personaggio complesso proprio per il rapporto che tiene col figlio che vive a Tanor la comune di cui si parlava prima ecco Martin Zanka tra le tante peculiarità che ha sembra quasi non è ancora della spesa a questo punto è la sua tendenza a produrre una quantità enorme di materiali editoriali proprio appunto allo scopo banalmente di sopravvivenza il suo lavoro è quello di sfornare titoli di dubbia qualità mi chiedo esiste ancora oggi se essendo appunto Martin Zanka che è ispirato da una figura reale che è quello di Colosimo esistono ancora oggi appunto queste figure di questo scrittore un po' maledetto che è costretto anche dalle necessità a produrre continuamente materiale di qualità non esattamente eccelsa e in che modo anche questa sorta di immaginario si rapporta con il vostro romanzo? La risposta è non lo so suppongo di sì che esista quel tipo di scrittore però appunto non mi sento di identificarne qualcuno o qualcuno perché sinceramente non lo so il personaggio di Martin Zanka è ispirato a Peter Colosimo non Colosimo Peter Colosimo che effettivamente tra anni 60 e 70 si fornò tantissimi libri va detto molti dei quali un po' fatti a fotocopia su l'ipotetico contatto tra le civiltà aliene e la terra appunto in tempi preistorici e quindi non so andava a cercare nei reperti archeologici nelle statuette maia nelle piramidi le possibili prove o comunque gli indizi dell'arrivo di civiltà aliene in tempi antichi dicevo un po' fatte tutte con lo stampo queste storie ma vendevano tantissimo è stato uno degli scrittori che vendeva di più in quel decennio e appunto l'ennesima dimostrazione del mood che c'era e noi ce lo siamo immaginato un suo alter ego ce lo siamo immaginato in crisi cioè stufo di scrivere sempre la stessa roba mentre il suo editore vorrebbe che lui continuasse ovviamente fino a esaurimento di questa questa vena no ed esse ai propri lettori sempre la stessa cosa sempre quello che vogliono il rilascio d'endorfine di cui parlavo prima all'inizio lui ha deciso che basta non ce la fa più ecco è anche in crisi effettivamente ha un problema col figlio che è appena uscito dalla tossicodipendenza eccetera in un momento difficile della sua vita passati 50 anni decide di tentare di scrivere un libro completamente diverso e sarà proprio la storia dei due boy scout scomparsi questa è la sua diciamo personale forma di redenzione da se stesso ecco dal personaggio che si era ritagliato addosso e che sicuramente aveva segnato la sua fortuna come scrittore scrittore di fantascienza perché poi al fatto di fatto anche se erano travestiti da saggi i suoi libri proprio come quelli di Colosimo erano dei romanzi di fantascienza sotto altre vesti appunto e quindi decide di tentare una cosa diversa di tentare insomma di rimettersi in gioco ecco in questo sì forse qualcosa invece dalla nostra esperienza l'abbiamo pescato l'abbiamo ripescato sì come si diceva all'inizio a un certo punto noi abbiamo deciso effettivamente di cominciare a lavorare diversamente con la storia e scrivere romanzi leggermente diversi da quello che da quello che scrivamo prima perfetto allora un altro tema che è stato se ne abbiamo ne abbiamo anche accennato prima se ne parla in maniera forse un po' più trasversale nel romanzo è il tema del reflusso appunto il 78 ma anche il 77 hanno fatto moltissimo la spartiacqua tra due epoche prima c'era il movimento c'era l'aperaismo poi c'erano i paninari in indiani d'america in tutto il mondo compresso negli Stati Uniti in un momento hippie si individualizzava e la ricerca della salvezza non diventa più un fatto collettivo ma un fatto individuale nascono moltissimi gruppi che si occupano di yoga reiki discipline comunque anche afferenti all'area del new age e ciò tende anche a creare una sorta di individualizzazione questa cosa è traspositata nelle discussioni che vengono fatte a Tanur nella comune di cui si parlava prima la carismatica leader Ursula di cui non ricordo il cognome Galbiati Gabbiani no Galbiati Galbiati perfetto parla molto spesso anche ai suoi compagni colleghi o quello che è è la discussione su cosa deve essere Tanur attraverso in maniera trasversale tutta la sottotanto trama che riguarda la parte della comune quindi appunto mi chiedevo in effetti si parla moltissimo di accettare o no gli eroenomani che hanno questo bisogno d'aiuto che stanno sulla porta si parla moltissimo di diventare indipendenti anche dal punto di vista economico visto che comunque Tanur sorge sulla villa di una ricca rampolla della borghesia milanese credo se non mi sbaglio il libro l'ho letto in realtà otto prescorso quindi abbiate pazienza se alcune volte ho delle dimenticanze e quindi c'è anche il discorso di dire cosa fare di Tanur e qualcuno alla fine arriva anche a proporre produciamo vino biologico produciamo mettiamo la frutta questa comune perché perché ci servono fondi per aiutare altre persone in più ovviamente c'è anche un'opposizione interna un'opposizione diciamo più purista in questo caso che dice che appunto non si può importare il capitalismo senza alla fine finire per diventare una sorta di clinica per tossicodipendenti per persone facoltose ecco un tema anche molto attuale visto che tra l'altro siamo anche in un centro sociale e chiedevo in che modo avete anche affrontato cosa significa per Tanur effettuare seguire questo mutamento antropologico che partendo dal 78 al 68 arriva fino appunto al riflusso di cui prima negli anni 80 beh intanto diciamo posti come questo li frequentiamo da un pochino ecco quindi la storia anche di di certe realtà è anche la nostra storia e quindi è una riflessione che ci appartiene sempre da sempre ecco su qual è il livello di compromesso ecco che devi che puoi accettare che devi ricercare o rigettare nella nel tuo confronto ecco col mondo che vorresti cambiare fondamentalmente Tanur parla di questo non è una una questione così così per aria è una questione molto terra terra e che in realtà ci riguarda tutti e senz'altro è chiaro che avendo davanti però lo vediamo noi da qua avendo davanti gli anni 80 e sapendo anche come sono si sono trasformate alcune alcune comuni nate proprio in quegli anni nel corso del decennio successivo è come dire si fa presto a dire ma in qualche modo Tanur Sis Natura no Orsola ti direbbe o forse semplicemente porta a compimento ciò che aveva in potenza le sue potenzialità Orsola da questo punto di vista è un po' fatalista se vogliamo però rifiuta categoricamente ecco quegli aspetti del patriarcato più impositivi e rifiuta anche diciamo una dialettica molto rigida quindi tutto sommato è disposta ad accettare quello che verrà non vuole imporre la volontà di un capo in questo caso in realtà l'altra sera presentavo questo libro a Genova e la persona che mi introduceva ha detto la parte di Tanur è la cosa più inquietante che abbiate mai scritto io ci ho pensato un po' in effetti ha un suo perché questa valutazione non tanto perché la parte di Tanur faccia paura ecco sia particolarmente scioccante ma perché effettivamente è magmatica cioè è molto difficile lo è anche per noi intendo dire che lo abbiamo scritto riuscire a stabilire che cosa bisogna fare dov'è la ragione ecco cosa il che fare ecco è sempre molto difficile tu partecipi a queste discussioni insieme appunto agli abitanti della comune e fai molta molta fatica a capire da che parte staresti ecco chi ha ragione e chi ha torto in questo senso effettivamente sì c'è un po' di inquietudine che questa storia trasmette ma è giusto che sia così perché in fondo come dicevo è la questione che ci riguarda tutti ok e per avviarci alla conclusione e tirare le somme questo genere narrativo ibrido che avete appunto sperimentato per la prima volta adesso quindi dove la realtà si mescola alla finzione ha funzionato a vostro parere guarda vista la risposta che stiamo avendo negli incontri come questo ne stiamo facendo tantissimi sono ottimista mi sembra che che abbia funzionato ecco ripeto non so se anche il fatto che ci siamo avvicinati nello spazio e nel tempo a questo giro quindi parliamo di cose in cui magari è un po' più facile entrare più prossime più comprensibili di primo acchito può anche essere che centri questo però vedo ecco le persone sono sono soddisfatte quando lo leggono ecco non è forse non era scontato perché appunto avendo scelto una tecnica narrativa mai utilizzata prima quindi non non eravamo come dire obbligati a saperla padroneggiare per noi questo è il miglior feedback noi non andiamo si sa insomma non è che andiamo in televisione a farci intervistare da Fabio Fazio ecco ci facciamo intervistare da voi non andiamo ai premi letterari all'Ecremess quindi l'unico modo davvero che abbiamo per parlare è direttamente con le persone e per questo facciamo decine decine di presentazioni e questo è anche il modo per avere feedback incontrarle vedere che comunque c'è la gente la gente viene ti fa domande vuole parlare del libro ti dice e ti dà le sue impressioni quindi da tutto questo io dico sì ha funzionato perfetto allora ci siamo avviati alla conclusione di questo fantastico incontro ricordiamo che potete acquistare UFO 78 dal nostro stand sulla destra laggiù vorrei ringraziare anzitutto tutta l'organizzazione del festival dalla parte audio e video di Marco Eva Anna Pablo e tutti gli altri collaboratori che hanno come dire lavorato per far sì che questo spazio quanto corrente fosse uno spazio anche di condivisione uno spazio in cui ci fossero aperte discussioni e roba simile speriamo di avermi trattenuto con la nostra intervista totalmente improvvisata e scritta in corso d'opera vi ringrazio moltissimo per la vostra preziosissima attenzione vi lasciamo adesso al concerto di Io sono Lotta con questo fantastico strumento che non so come si chiama che vedete alla mia sinistra grazie a tutti ancora e buona continuazione di serata grazie ciao